salve a tutti ringrazio intanto l'associazione inside psicologi per questo invito come vedete non posso essere presente perché sono impegnato altrove in altre questioni e ma volevo comunque dare il mio saluto il mio apprezzamento e un minimissimo contributo a questa iniziativa che trovo estremamente importante la scuola è non dico solo io ma sotto l'evidenza generale è stata abbandonata in questo periodo ed è invece un luogo fondamentale per tutta una serie di questioni esistenziali e anche produttive poi di base e quindi benvengano tutte le iniziative come questa del progetto promosso da questa vostra associazione in cui si cerca di rimettere in moto dei meccanismi di diciamo di buon funzionamento la famosa buona scuola di cui si è parlato negli anni precedenti ma appunto solo parlato credo che invece adesso ha bisogno di uno sforzo collettivo di pensiero di riprogettazione e di diciamo come dire di ripensamento su alcune modalità che nella scuola non sono mai entrate che invece spero che dopo questa catastrofe epocale possano essere riprese o prese in considerazione come diciamo come è l'importanza della relazione fra insegnanti e alunni diciamo in cui venga di nuovo perlomeno ripensata la dimensione dell'educazione dello stare insieme e della costruzione dell'educazione del rapporto educativo come fonte non solo di apprendimento ma di formazione di crescita profonda con tutte quelle diciamo caratteristiche che ho visto citate in questo vostro progetto quindi io vi auguro un buon lavoro e spero che sia produttivo e di aiuto per tanti e per tutti